Qual è stata la scena questa mattina? Abbiamo visto insomma volare un po' di tutto? Il vento forte, quando è abbinato la pioggia, noi purtroppo siamo all'aria aperta, quindi le tende non ci tengono il vento. Le ha rovinate? No, a me no, a me no, dopo non sono gli altri, ma credo a nessuno. A noi no, fortunatamente non ce li ha provocati perché siamo riusciti a chiudere tutto in tempo e aiutandomi sinceramente anche la gente è venuta aiutarci, sì, mi vogliono bene. Di solidarietà anche tra i passanti, tra vicini di Bancarella. Di Bancarella sì, tutto. Io posso dire che sono stata fortunata, cioè si è bagnato qualcosina, però con l'aiuto di qualcuno che ci teneva la tenda, sì, sono stata fortunata. Ad altri invece è andata peggio? Altri non lo so, francamente sono parecchi, sono riusciti a chiudere, tant'è che ci siamo aiutati un po' così e qualcuno no. Ma riaprirete oppure andrete via? Allora, io sto perché ho clienti che mi arrivano, loro non proprio apro, però qualcosina magari chi mi chiede tiro fuori. Però aprire penso proprio di no perché mi hanno detto che torna di nuovo il maltempo e quindi abbiamo un po' di fifa. Dopo l'ultima 90 km orari che hanno detto abbiamo un po' di fifa, sì. Avete deciso di chiudere o aspetterete qualche stante? Aspetto oramai, oramai aspetto, sì. Ho già aperto tutto, quindi... Vi ha provocato danni questo vento forte? No, però alcuni sì, vedi gli ha rvesciato la roba, sì, sì. No, a noi no. Quindi c'è stato un po' di trambusto questa mattina? Sì, sì, è arrivato del vento un po' forte e allora tanto è il mestiere nostro. Ci stiamo provando, siamo vicini, noi abitiamo qui a Marotta, quindi il vento è forte, ci stiamo provando, comunque non rovino nulla, se si bagna sono pochi pezzi, quindi non è che faccio tanti danni, ecco. Quindi si continua, si chiude l'ombrellone, se no mi vola via.